Sono 37 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione Oro Nero condotta questa mattina nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto. Agli indagati viene contestata l'associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di accise ed IVA sui carburanti, intestazione fittizia di beni e società e truffa ai danni dello Stato. Tra gli arrestati risulta anche un carabiniere fino al 2019 in servizio in provincia di Salerno, ritenuto infedele dagli investigatori perché in cambio di svariate taniche di gasolio, poi vendute a terzi, avrebbe fornito al sodalizio informazioni sulle attività di indagine in corso. Il militare dopo l'arresto è stato condotto in carcere. Nei suoi confronti, già all'emergere del suo coinvolgimento, l'arma aveva deciso il suo trasferimento in altra provincia con incarico non operativo. È un'operazione abbastanza complessa perché ha visto il coinvolgimento di due procure distrettuali, la procura distrettuale di Potenza e quella di Lecce e ha visto anche una joint venture criminale tra un'organizzazione che aveva sede qui in Campania da noi e un'altra che invece era in Puglia e con uno scambio di favori all'interno delle singole organizzazioni che hanno visto anche delle forti responsabilità a carico dei soggetti. A capo di questa organizzazione per quanto riguarda il profilo di quella campana c'era Diana Raffaele che attraverso i suoi figli e attraverso le sue conoscenze sul posto, in particolare di tale Petrullo sul Vallo di Diano, ha commesso una serie di delitti molto gravi per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Parliamo di riciclaggio, di autoriciclaggio, di intestazione fittizia di beni e di una serie di frodi su IVA e ACCISE sulle quali poi i colleghi della Guardia di Finanza hanno fatto una serie di approfondimenti finanziari e che ha visto il coinvolgimento di oltre 60 persone per 30 delle quali sono scattati i provvedimenti cautelari quest'oggi messi al GIP di Potenza.